Viene rincorso dai giornalisti molisani ma non risponde, ormai da settimane. Evidentemente però a Roma non è riuscito a sfuggire ai cronisti che stavano seguendo un evento a cui partecipava e di parole, ne ha dette tante, eppure pesanti, il commissario ad acta alla sanità Angelo Giustini lancia strali contro il governatore Tome e l'assessore Mazzuto. Il primo che ha sempre bocciato il suo operato e il secondo che recentemente ha preso le distanze in qualità di coordinatore della Lega dal generale della finanza nominato dal governo proprio in quota Carroccio e lui, a margine del convegno organizzato dal network presa nella capitale, replica e traccia il quadro nero della sanità regionale. Tutto è nato, spiega Giustini, perché i primari hanno messo nero su bianco al direttore generale che non ce la facevano più. In effetti sono tre persone rimaste per tenere in piedi un reparto, tanto a Termoli sia a Isernia. Essendo commissario mi è stato chiesto di fare qualcosa, anche l'opzione medici, tutti civili e militari andava bene. Situazione condivisa da me e dall'attuale presidente della regione Toma, che poi invece ha fatto il volta faccia, ma a noi non interessa perché l'emergenza c'era e rimane sotto gli occhi di tutti. Chi ci aiuta, ci aiuta. Il commissario ringrazia poi la ministra Grillo per gli accordi sanciti con le regioni limitrofe al Molise e che hanno consentito l'arrivo di ortopedici a Isernia da Roma e di altri specialisti da Andrea a Termoli. Mancano pediatri, ginecologi, anestesisti, medici di pronto soccorso, prosegue. Al di là delle polemiche politiche, direi al presidente e all'assessore Mazzutto che avete detto? Guardate in che realtà emergenziale siamo. Il problema della carenza è nazionale, è più acuito in Molise come in Calabria. Mi dà addosso un certo tipo di politica perché non amano i commissari, ma non ci posso fare nulla. Infine, sulla possibilità di inviare medici militari, ha affermato, non aggiungo altro rispetto a quello che ha detto la ministra Trenta, tutte le opzioni rimangono aperte, quindi anche quella dei medici in pensione. La responsabile del di Castero della Difesa nel giorno della sua visita a Campobasso, domenica scorsa per il Corpus Domini, aveva chiarito che era ancora in campo, proprio l'idea dei medici militari. Intanto sul tema interviene anche la parlamentare azzurra, Naessa Tartaglione, che esprime un parere negativo su questa opzione e in generale sull'operato del commissario e del governo. La sanità è al collasso e al momento non ci sono soluzioni, dichiara se gli esiti non dovessero essere soddisfacenti. Siamo pronti a mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione, politici e giuridici, per portare il tema al centro del dibattito parlamentare.